Contatti con l'aldilà Ivana, qual è la tua posizione? Allora, io ho vissuto dei fatti straordinari, ma vi posso dire che sono tutti documentati, ho tanto di testimonianze che avevo messo in un libro, non dico neanche il titolo del libro perché non sono qua per fare promozione a questo adesso, ma io ci credo, ci credo ma per cose che sono successe a me. I miei contatti, allora, a me succedono casi diversi, cioè in sogno io incontro i miei cari, i miei defunti, mio padre, mia madre, che mi annunciano cose che succederanno magari entro un giorno, due giorni, una settimana. Cosa che poi ci accadono. Per esempio, sì sì sì, una volta ho sognato mio padre che era felice, sorridente e gli ho detto papà come mai sei così contento? Vengono a trovarmi tutti i miei amici. Il primo della lista è Bergamin. Mi sono informata, ho chiesto a mia zia, insomma, questo signore era a casa malato, dopo una settimana è mancato. Ma tante cose così che mi succedono, nei sogni riesco a comunicare con i miei cari. Mentre mi è capitato poi di vedere delle presenze e lì non riesco però a comunicare io. Ho sentito anche le voci, guardate c'è tutto documentato perché io quando ho queste cose qua, Come fai a documentare? Scusami, se senti delle presenze. Come faccio a documentare il sogno, per esempio, questo sogno. Sì, ma a parte il sogno. No, agli altri no, agli altri non posso dimostrare che io di notte e di solito... Ma ti sei confrontata con altre persone che dicono di possedere dei doti particolari e che hanno confermato che comunque tu hai una certa sensibilità. No, io non sono andata a chiedere a nessuno se io sono una medium che non sono come la signora. La signora ha delle capacità. Io ho raccontato in questo libro cosa mi è successo. Sogni premonitori, delle cose incredibili, veramente. Io ho sognato una sera prima di incontrarla una bimba, era il 19 agosto, questo me lo ricordo benissimo. Faccio un sogno, vedo mia nonna in sogno alla finestra della casa dove aveva sempre abitato, con vicino una bimba bellissima, con una carnagione chiara, cappelli scuri, un fiocco bianco in testa, occhi azzurri. Loro tutte e due mi sorridono. Poi la piccolina a un certo punto guarda mia nonna e sembrava si conoscessero, no? E io vedo che ha una leggera gobetta sul naso. Poi mi riguarda, mi saluta e finisce lì il sogno. Io il giorno dopo dovevo andare a San Buceto a fare un concerto. Morale arrivo e ho fatto una testa così a chi mi accompagnava, un tal Ugo Biondi, anche un mio amico, e lui sa la storia. Arriviamo sul posto, vengono incontro a noi due signori delle Forze dell'Ordine che ci accompagnano al palco e mi dicono, signora ci sono due signori e una famiglia praticamente che la vorrebbe incontrare prima del concerto. Eh, vabbè, facciamo prima perché dopo facciamo le foto, fotografi. Morale arriva, questa signora entra in camerino, era Sonia e Vincenzo d'Arcangelo. Allora, la bimba ve l'ho descritta prima addirittura con il fiocco bianco, la gobetta, occhi azzurri e tutto. Eh, la signora mi dice, noi, noi volevamo tanto conoscerla perché abbiamo perso una bambina anni fa ed è mancata ascoltando la sua canzone come il cielo e vorremmo tanto che gliela dedicasse. Tu hai visto la foto? No, io ho cominciato a dire, signora, per caso, sua figlia ha gli occhi azzurri, una leggera gobetta sul naso, per caso, io l'ho vista con un fiocco bianco in testa, la signora è andata in lacrime, mi ha abbracciato, ha tirato fuori una foto che io ho pubblicato in quel libro lì, ma c'è la signora come testimonianza, le avevo descritto la figlia prima ed era il giorno del compleanno della bambina. La signora Tabacco e altri medium si rivolge che ha perso una persona cara per avere un segno dal defunto. Non è il caso della signora Ginella, ma non ti sfiora il dubbio che qualcuno lo faccia, magari per un interesse di carattere personale, economico? Per quale ragione? Non lo so. Non è il suo caso. Appunto, il caso non è della signora, io, quelle cose che a me sono capitate e che ho raccontato, conosco delle persone alle quali capitano queste situazioni e non chiedono soldi. Magari ci saranno gli approfittatori non veri che lo fanno. Qualche trasmissione ogni tanto li smaschera, però secondo il Codacons in Italia con la crisi economica, paradossalmente il mercato dell'occulto è schizzato di un 500%, un giro d'affari da 8 miliardi d'euro con 13 milioni di italiani che ogni anno si rivolgono a medium, poi con le derive dei santoni. Medium è una cosa, questo caso è quando una persona perde un affetto, che è una cosa diversa che andare a cercare di scoprire cosa ti succederà, qual è il tuo futuro, se il tuo lavoro va bene, quella è un'altra cosa. Quindi dobbiamo distinguere, però mi toglie una curiosità. Premesso che io ti credo e credo anche a quello che dice la signora Ginella. No, se non vedi non puoi credere, questo lo so. La domanda che ti voglio fare da avvocato del diavolo, ognuno di noi ha perso un caro, ha perso un familiare e desiderebbe rivederlo, parlarci, no? Magari. Bene. Perché queste presenze si manifestano sempre a terzi e mai direttamente? Non te lo so dire, si vede che c'è gente molto più sensibile che sa recepire di più questo. Io non ho mai avuto la gioia di incontrare i miei, di vedermi i miei, ho visto altre anni. Però io pagherei in sa che cosa per poter rivedere mio padre o mia madre. Anch'io, però i miei l'incontro in sogno e mi avvisano di cose. Tu lo sai per esempio, qua bisognerebbe parlare troppo, non c'è tempo perché dicono sempre taglia, taglia. Ma tu lo sai che quando uno di noi muore arriva un familiare a prenderlo? Non sono matta. Vi dico, mi dai mezzo minuto o no? Allora, ok. Prima che morisse mio padre, mi arrivò mia nonna in sogno che rideva, non sorrideva, rideva, rideva. Mio padre era malato di tumore. Io ho detto, vedrai che domani ho una bella notizia, mio padre starà meglio. Mio padre è morto il giorno dopo. I vicini mi hanno detto, ma come tu non sapevi questa cosa che i cari vengono a prenderlo? Sta male mia madre di tumore? Sai cosa è successo? Io ho sognato la notte, sogno, mio padre che viene avanti ridendo verso di me. Io sapendo anche nel sogno cosa volevo dire, in sogno ho dato un ceffone a mio padre. Alla mattina stavo male perché in sogno avevo dato un ceffone a mio padre e avevo paura che mia mamma morisse. Alle nove di sera mia mamma è mancata. Ma ce ne sono tante di queste testimonianze. I sogni a volte sono dei viaggi astrali, non si può spiegare in mezzo a minuto.